10 maggio 2019, sono arrivato in questo momento alla stazione di Brenna Alzate. Il mio gatto mi ha riconosciuto, mi ha riconosciuto senza che io parlassi e dicessi una parola. È venuto vicino a miagolare, eccolo lì che si diverte con una mosca. Ecco, mi sta seguendo e va su lì e adesso lo accarezzo. Mi cetto, bello, bello, sì, sì, sì. E va che aspetti i gattini qua, quanti ne è dentro di gattini, quanti? Va che bello, va che bello, va che bello, il gattino è incinta, tra 15 giorni dovrebbero nascere. Ogni tanto ho paura di qualcosa, però conosce me personalmente. Vi faccio vedere oggi quello che ho seminato tre settimane fa. Ecco, è cresciuto, è cresciuto, ha piovuto parecchio, c'è l'insalatina buona. Ora vado su alla stazione a far da mangiare. Brenna Alzate, sono qui in questo momento, in questa bellissima stazione abbandonata. È una stazione del Novecento, dove ogni volta, anche passata una settimana, il mio gattino mi riconosce, mi riconosce sempre. E in più oggi ho l'orto. Dopo tanto lavoro aver vangato, finalmente traggo soddisfazioni. Cresce l'insalatina e altre verdure. Vi saluto da Brenna Alzate, binario unico della stazione Alba.